Musica Se avete bisogno di crediti, IGVOLT, link, codice e coupon qui in descrizione Jordan Lukaku disponibile tramite SBC fino al 20 di luglio Ed è una carta che secondo me può dire la sua E salve ragazzi bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot Se il video vi piace lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale attivando la funzione della campanellina E qui in descrizione troverete link ai nostri social quali Facebook, Instagram e Gruppo o Telegram E sempre in descrizione troverete link al canale di Ghiecco E' un canale emergente e ho partecipato a uno dei loro video ragazzi Ti sarò sincero un video cringe Però vabbè voglio fargli questa pubblicità perché ho partecipato a questo progetto che sinceramente mi ha anche divertito Ecco non ho fatto niente di che alla fine però vedrete nel video Vediamo a Lukaku Summer Hit Allora ha ricevuto questa carta per la sfida Juventus Lazio chissà chi vincerà Chi vince riceve un più 3 Chi pareggia, cioè chi pareggia, se c'è un pareggio ricevono entrambe le carte un più 1 Chi perde non riceve nessun upgrade Allora per Lukaku gli devo dare velocità, fisico, dribbling, passaggio e tiro Questi ultimi due con una stellina Come conto secondo me è molto evidente soprattutto se lo mettiamo come ala Gli devo dare la finalizzazione Però questa carta sinceramente parlando può ricoprire veramente tanti tanti ruoli in game Può fare addirittura il terzino, l'ala sinistra A tratti anche il mediano ecco Il centro-capista Cioè veramente questa è una carta che io vi straconsiglio di fare Perché è molto utile in qualsiasi zona del campo ragazzi Come l'ho provato? Beh ve lo lascio intuire ragazzi ecco Nel passaggio non mi è piaciuto particolarmente il passaggio lungo Che può essere molto molto utile soprattutto un terzino ecco Per fare magari quelle sciabolate lunghe appunto sulla fascia Esterno assolutamente validissimo Cioè ragazzi è veramente valido in qualsiasi ruolo Anche appunto come secondo appunto come COC volendo ecco Anche se comunque la visione è un 87 Non lo aiuta particolarmente secondo me Quindi magari lo mettiamo più come esterno Come attaccante esterno Come ala Anche come terzino appunto Non smetterò mai di dirlo Ha 5 di piede debole Scusate 4 di piede debole E 4 di skill Un 4-4 che ci sta alla grande Il suo body type è Stoki Ovvero massiccio È un giocatore che secondo me perde un po' di velocità Per via soprattutto del rapporto altezza-peso È alto 177 cm con 86 kg di peso In fase difensiva non ha delle pecche evidentissime Soprattutto se lo mettiamo come esterno Magari come terzino un po' Diciamo la marcatura La perderà un po' la Roberto Carlos Ecco faccio sempre questo paragone Però fisicamente parlando Anche come terzino non ha niente da invidiare a nessuno Anche a un difensore centrale valido Perché ha tutti i valori sopra il 90 Il corpo di testa diciamo Meglio lasciarlo perdere Invece il dribbling veramente fenomenale In quanto non ha problemi in nessuna delle sue caratteristiche Del dribbling Fredezza, agilità Cioè veramente tutto 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 E la velocità è un 96 in generale Con 83 scusate ma accelerazione 98 velocità Scatto Io come alternative Beh ce ne sono veramente poche In serie A magari un insignia Vabbè se mettiamo lui come ala Io ho dato via Gervigno Nella versione flashback Per prendere Lukaku E sinceramente non mi pento Perché ho fatto quell'upgrade Che stavo cercando sulla fascia E se voi magari avete ancora Gervigno E volete un upgrade Questo Lukaku fa al caso vostro A parer mio Come indice di Eh ma un'abilità da 1 a 5 È un esterno Del belgio Si può ibridare bene con una serie A belgio Quindi gli do un 4 più pieno A parer mio Come stilintesa l'ho provato con base Ma secondo Futubin I top 3 che mi stai più utilizzati Sono base Guardiano E Cecchino Secondo me dipende dal ruolo Ecco Il prezzo secondo Futubin È di 110.000 crediti Ragazzi Per chi ha milioni di crediti Io ho milioni di crediti 3-4 Me li sto cazzando tutti Veramente Perfetto Veramente Per fare l'SBC Sono molto soddisfatto Perché comunque Lukaku In questa versione Se costa anche 150.000 crediti Non è male Perché se vince la Lazio Arriva a 95 Se perde comunque a 92 Ed è uno degli esterni Più validi della serie A Ma venendo alle conclusioni Il mio voto per questa carta È un 9- Quel meno Anche la finalizzazione Anche quelle pecche che vi ho detto Però in linea di massima È una bella carta Che vi consiglio di fare Se state cercando un esterno Valido 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 E abbastanza completo In serie A Ma ragazzi Ditemi voi cosa pensate Di questa carta Di questa review Se vi è piaciuto Lasciate un mi piace Un commento Una condivisione Hashtag NMF Quello risposto Saluta E vi ringrazia Ciao belli Ciao belli